calegnaia 31 luglio 2019 uno dei due quermorani di calegnaia ha fatto visita mare leggermente increspato con una risacca con sulla quale bisognava fare parecchia attenzione perché tagliarsi sugli scogli è davvero un attimo il resto l'acqua era calda un po turbona a causa del fatto che era un pochino agitata ma si stava davvero bene al mare oggi a nord di calegnaia sui scogli piatti e le buchette poco più a largo un mega yacht che sostava tranquillo